Siamo con il presidente della Luzzese Mirabelli, presidente non è ancora eccellenza però poco ci manca perché ci sono diverse possibilità perché quantomeno un posto si liberi e dunque la stagione che ha visto la Luzzese fare un testa a testa appassionantissimo con il Corigliano si chiude nel migliore dei modi tra l'altro un finale molto thriller visto che il gol decisivo arriva al 119esimo. Sì l'emozione è tanta diciamo che la partita ha descritto quello che è stato quest'anno il nostro campionato un campionato dove abbiamo sempre giocato bene come abbiamo fatto oggi il primo tempo poi il secondo tempo tanta sofferenza un ottimo siderno gli faccio i miei più grandi complimenti un'ottima squadra e poi all'ultimo siamo riusciti con Danilo Tucci che come sempre ci dà una mano a risolvere queste partite a centrare questa finalissima sperando adesso che valga l'accesso in eccellenza. Domanda doppia, che campionato sarà per la Luzzese se molto probabilmente sarà eccellenza o che campionato sarà dovesse purtroppo per la Luzzese essere ancora promozione? Io come ho già detto se riuscissimo a centrare questo obiettivo all'eccellenza allestiremo una squadra per cercare di fare un campionato da protagonisti sappiamo che in eccellenza ci sono realtà e squadre di tutto rispetto e cercheremo anche noi in quel caso di attrezzarci e fare un campionato di vertice. Per adesso io non penso alla promozione anche perché giustamente alla fine di questo campionato non è nei miei e nei nostri pensieri ci godiamo questa vittoria la dedico a tutti i luzzesi e la dedico alle persone che non hanno mai creduto in noi anzi ci hanno sempre remato contro questa è la nostra risposta. L'ultima domanda, l'emozione più forte è stata vissuta sulla paratissima di Ramunno o sull'incrocio dei pali colpito da Tucci? È una bella domanda, le emozioni si sono avvicendate perché è stata una partita ripeto al cardiopalma e forse l'emozione più grande è stata quando l'albitro ha fatto il triplice fischio quindi è stata una gioia, una liberazione per noi. Sono davvero contento e faccio gli auguri al Siderno e spero che tutti e due ci ritroviamo il prossimo anno in eccellenza perché siamo due ottime squadre.